lui alza fate un giro in senso anti-orario quindi Andre bravissimo e Gian vado ad alzare quindi mettiamoci le mani nei capelli andiamo devi andare di là Gian anticipati devi di qua ok vai di là ora ci sta ecco le gambe piegate le braccia stese Andre controlla la tua vera potenza per quando serve ok qui devi essere preciso io so che tu hai la forma del super saiyan god però devi anche contenerti vai di là vai di là Gian di là e lo pagano per questo è pazzesco li fa morire la gente però lo pagano io sono un descrittore della realtà il suo palco lo montiamo bravi dove stai andando? eh sì perché lui è un saltatore che va sui due metri forte chi mi fa tenda a voler bravo Andre la tua nuova potenza gli fa sbagliare io apprezzo alto davanti a te non passarla oh e basta eh tienila vicino a te di nuovo va bene vai di là ora molto bene bravi bravi ok no ma perché facendo muovendo il culo che non è il femminile questo siamo nel maschio devi muovere le chiappe capito? se no ti metti la rete a 224 e ti do un racchettone cos'è meno che fai uno sport che è più adatto alla tua età effettivamente era un buon salvataggio io l'avrei attaccata fortissimo quella palla basta sulle gambe lo sapevo se lo tiravi qua se lo mostro giro bravi questa è una bella serie bravo bellezza ti faremo ritornare in forma ti faremo ritornare in forma e il tuo moglie tornerà a ringraziarci eh ma lì qualcuno però ci deve fare qualcosa ci sta che tirano in centro per sbaglio qualcuno deve fare qualcosa allora pensaci tu mi sembra che tu sia abbastanza veloce mi piace la devi smettere di voler alzare con le spalle a rete che non alzi a nessuno e al 50 Ettore di qua andiamo Ettore è tua la palla andiamo muovi quelle che appone grasse forza l'alzatore non ha ancora fatto un'alzata Dio santo alza vai dall'altra parte veloce dall'altra parte veloce fatti i cazzi tuoi sai è vero che lui non voleva alzare all'indietro spero che questo sia chiaro lui voleva alzare la pista e andavanti lui voleva alzare l'indietro lui non ha il controllo del suo corpo dopo 90 anni cioè non controlla il suo corpo nella fase adolescenziale ancora vieni qua andiamo adolescente questo cazzo sì certo vai io ci credo voltati sul palo non alzare spalle a rete cioè capisci che fanno a meno di te cioè l'elemento di disturbo sei te che dovresti aiutare invece ti chiedi il milano dal gioco sei veramente un fango davanti a te non gliela mettere al centro del campo che muore l'uomo di due metri più basso del mondo spalle a rete braccia stese devi prendere la palla all'altezza dei capezzoli non sotto le palle alza molto bene vieni qua no Andre ha fatto anche una buona alzata così non gli dai fiducia però mi piace questo se lo colpisci in faccia è ancora meglio L'ore alta vicino a te bravo a essere però ok facciamo un giro o difendiamo male quando ho arrivato che dobbiamo metterlo in riga L'ore vai di là muoviti non dobbiamo dargli fiato deve morire oh mi piace guarda non faccio partire neanche il cronometro facciamo 100 minuti per lui L'ore di là veloce vai di là alza il pallone su 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 Ettore fai piano con Cristian che lo ammazzi non tiene neanche il semolino non tiene bella palla no al palleggio vai di là vai di là che l'hanno presa vieni di qua andiamo bravo la nocca all'indietro non l'aveva ancora vista ti ringrazio è arricchito il mio bestiario teoricamente noi ne abbiamo soltanto 6 eh mi sa proprio di sì io abbiamo quei 4 e quei 2 non c'è bravi vai vai alza 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 ok bravissimo Andrea bravissimo ma lascia la palla l'alzatore ma queste manie di protagonismo veramente ma cosa deve entrare in gola col bagger che gli chiedi scusa bravo Lone si si alzala alzala alza il pallone una palla sta affiatando il nuovo arrivato non deve affiatare lo dobbiamo seppellire sotto la sabbia la gamba la gamba sinistra si alzi a destra vai 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 lanciagli la palla che così alza rapidissimi su l'altra gamba per alzare ok allora è un po' troppo però apprezzo il gesto così mi piace andiamo su lancia il pallone che sta respirando se non riesce a respirare usa il culo che è uno spintere che non stai usando ora andiamo ancora respira col culo vieni qua mi piace vai vai alza alza madonna fatelo fatemi morire per davvero però siete delle merde io apprezzo grazie grazie